Si è insediato il nuovo dirigente della squadra mobile di Trapani, il vicequestore aggiunto Fabrizio Mustaro, nato a Sassari, 45 anni, ha una laurea in giurisprudenza, conseguita all'Università di Pavia con il massimo dei voti. Mustaro entra in polizia nel 1997 e accede al ruolo di commissario nel 2000 con l'incarico di vice dirigente del commissariato di Orgosolo, quindi trasferito a Nuoro, dirige l'ufficio volanti per due anni. A queste esperienze operative segue l'incarico di capo di gabinetto e di portavoce del questore, addetto stampa. Dopo un'importante esperienza come dirigente della Digos, arriva la squadra mobile nel 2008. Numerose le operazioni portate a termine brillantemente, tra di esse l'indagine sul poligono militare Chirra, unica nel suo genere a livello europeo, conclusasi con il rinvio a giudizio di sei generali dell'arma e dell'aeronautica, 18 casi di omicidio risolti con l'arresto dei responsabili, 8 latitanti catturati, tra cui Angelo Balzano, 6 operazioni antidroga per traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, terminate con l'arresto complessivamente di 50 persone e 110 indagati. In collaborazione con le autorità spagnole, la cattura di un latitante di camorra per traffico di stupefacenti, un'indagine per traffico di armi con 8 persone arrestate e ancora diverse indagini per sfruttamento della prostituzione, tratta di essere umani con decine di indagati arrestati e persino una su una psicosetta che operava come associazione a delinquere con centinaia di vittime in tutta Italia. Mustaro, oltre che per i risultati ottenuti con l'attività investigativa, è noto in tutta la Sardegna e anche fuori dall'isola, quale fondatore dell'osservatorio territoriale sul bullismo. Migliaia di alunni, genitori, docenti, formati per combattere il preoccupante fenomeno. Decine le iniziative organizzate da Mustaro, uniche a livello nazionale, una su tutto il diario della legalità, che hanno avvicinato la polizia di Stato alla gente, facendo prevenzione e aiutando la comunità ad affrontare problematiche e fenomeni allarmanti come quelli legati all'uso della droga e all'abuso di alcol.